Ciao a tutti dalla biblioteca, eccoci qua. Allora la biblioteca adesso è chiusa, non c'è nessuno e per cui mi posso togliere la mascherina, ecco qua. Però la biblioteca continua ad essere aperta, allora il martedì e il giovedì al mattino dalle otte e mezza alle dodici e mezza, gli altri giorni lunedì, mercoledì e venerdì al pomeriggio dalle due e mezza alle sette e il sabato dalle due e mezza alle sei. Allora oggi volevo però dirvi una cosa, abbiamo alcune proposte per una delle giornate che di solito stimola un po' la fantasia, che è Halloween, che sta arrivando. Abbiamo diverse proposte per voi, film, libri per tutte le età e adesso ve ne faccio vedere qualcuna.